In vista delle elezioni amministrative del prossimo 11 giugno, sono diversi gli esponenti politici dei movimenti e dei partiti che sono in lista per le prossime elezioni che hanno fatto visita al capoluogo isontino. Anche Massimiliano Fedriga, capogruppo alla Camera dei Deputati per la Lega Nord, ha recentemente partecipato all'evento di presentazione delle donne e degli uomini in lista con la Lega Nord Gorizia. Ho colto l'occasione per fare qualche domanda al giovane deputato fra aneddoti di vita personale, Unione Europea e elezioni amministrative a Gorizia. Continuo a guardare l'intervista, ci vediamo fra pochissimo! Mi trovo con l'onorevole Massimiliano Fedriga, presidente del gruppo parlamentare della Lega Nord. Massimiliano, dove nasce l'impegno in politica, nella tua famiglia, nella società civile? È nato nel 1992 quando è arrivato Umberto Bossi a Trieste e i miei genitori, anzi mio papà e mio fratello sono andati a vederlo, io no. E questo probabilmente mi ha creato una curiosità particolare, io da quel momento, da quando ero poco piccolino, avevo 12 anni, ho incominciato a seguire, mi ricordo che nel 1994 guardavo in televisione, un 14enne, guardavo in televisione le elezioni amministrative dei Trieste con Federica Siganti, candidata a sindaco per la Lega. In tutti questi tuoi anni di esperienza c'è qualcosa di cui vai particolarmente fiero o anche qualcosa che cambieresti? Cambierei no, perché voglio dire evidentemente se così le cose sono andate era giusto che andassero così, quindi non guardo indietro su questo. Sono particolarmente contento di aver iniziato presto a impegnarmi per la cosa pubblica, non avrei mai pensato di diventare parlamentare, anzi fare il leghista a Trieste con un partito che al tempo era all'1.2% voleva dire fare volontariato soltanto e combattere per un'idea e spero di riuscire sempre a combattere per quell'idea fino alla fine, indipendentemente poi dai ruoli politici che uno ricopre in un determinato periodo storico. Immigrazione, euro, vincoli europei, tanti limiti, ma qual è il sogno di questa Europa? A me piacerebbe un'Europa che fosse scelta, votata e decisa dai cittadini. Adesso purtroppo c'è un'Europa dove i grandi poteri finanziari, le grandi lobby, le banche decidono delle politiche nazionali. C'è un indebolimento della politica. Allo stato attuale la finanza che decide cosa devono fare i governi. È inaccettabile. Noi dobbiamo riportare in vetta quella politica sana che è rappresentanza del popolo e non invece quella politica insana che è semplicemente la serva del potere forte di turno. In questa prima parte di intervista il deputato della Lega Nord, oltre a raccontare alcuni aneddoti legati al suo impegno nella vita politica, ha spiegato chiaramente alcune idee che potrebbero portare al superamento di questa Unione Europea che attualmente è poco attenta alle esigenze dei cittadini. Vista la concomitanza con le elezioni amministrative del prossimo 11 giugno anche a Gorizia, nella seconda parte dell'intervista ho ritenuto opportuno parlare del capoluogo isontino e delle prospettive per questi territori. Elezioni amministrative l'11 giugno qui a Gorizia. Qual è il sogno per la città, ma anche come valuti i dieci anni di questa amministrazione di centrodestra guidata da Ettore Romoli? Deve continuare il sogno, che dal sogno si è trasformato in politiche concrete. Non è stato Romoli un sindaco che ha promesso 80, 180, 280, 1080 euro al mese come Farenzi, un sindaco delle cose concrete. Con umiltà si è messo a disposizione della propria comunità e sono convinto che così farà anche Rudy Zeberna e soprattutto sono convinto che così faranno i candidati a consigliere della Lega Nord che in modo molto semplice vogliono contribuire al miglioramento della città e continuare quel percorso virtuoso che ha iniziato Ettore Romoli. Qual è il tuo sogno per Gorizia? Mi piacerebbe che Gorizia diventasse città internazionale al centro di un'Europa dei popoli. Ha queste potenzialità. Penso che Gorizia debba ricavarsi quel ruolo che è fondamentale ed è l'unica via, credo, per sviluppo della città, per riportare qui impresa, lavoro, futuro, e sogno. Mi auguro che tutti lavorino in quella direzione. Ho paura che in passato per, soprattutto dalla sinistra, per garantirsi piccoli bacini elettorali e piccole situazioni di potere se sia buttato nel cestino l'interesse collettivo e il futuro dei Goriziani e di Gorizia stessa. Quali sono gli esponenti politici locali ma anche nazionali da cui ti senti più rappresentato? Come credi che la politica potrebbe essere più rappresentativa e farsi portavoce anche delle tue istanze? Scrivi un commento e raccontami la tua storia. Sarà per me un piacere leggere e poi risponderti. Se questo video ti è piaciuto metti mi piace e condividilo con tutti i tuoi amici. Ti ricordo che l'appuntamento è sempre per mercoledì prossimo ma prima di salutarci ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube. Sarai sempre aggiornato sui miei prossimi video per cui iscriviti. Un caro saluto. A presto!